Musica Diritti, la commissione pari opportunità della Toscana in campo per combattere discriminazioni e violenza. Al Dichiana Senese, capitale della cultura 2026, il presidente del Consiglio regionale ha preso parte al momento dell'audizione a Roma. Informazione dal corso organizzato da Corecom, Ordine dei giornalisti e Fondazione ODG, la proposta di attualizzare la legge sulla par condicio. Contro discriminazioni e violenza La lotta alle discriminazioni e la promozione della cultura e del rispetto di genere sono state al centro di un doppio appuntamento a Palazzo del Pegaso promosso dalla Commissione Toscana per le pari opportunità. È stato infatti firmato il protocollo siglato dalla Commissione e il Comitato Interordinistico Insieme per le Professioni, nato nel 2018 per combattere tutte le discriminazioni nel mondo della professione. A illustrarlo tra gli altri la presidente della Commissione pari opportunità Francesca Basanieri e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Oggi qui noi vogliamo dire che tutti insieme possiamo cambiare le politiche pubbliche per sostenere la parità di genere nei luoghi di lavoro. Dicevo prima in conferenza stampa che ogni qualvolta una ragazza che arriva ad un colloquio e gli viene chiesto se ha figli o pensa di avere figli e questo cambia la valutazione, finché accadrà che soltanto un caso di questo genere accadrà, ognuno di noi deve sentirsi responsabile. Quando dico di cambiare le politiche pubbliche voglio dire prima di tutto cambiare l'approccio culturale che hanno tanti uomini e tante donne che partecipano ancora alla scelta e alla selezione e all'inserimento di donne nel mondo del lavoro. Questa mattina firmiamo un protocollo assieme a tutti gli ordini professionali della Toscana con l'obiettivo di lavorare insieme per costruire una cultura di parità diffusa su tutto il territorio. Grazie alle loro professionalità possiamo costruire iniziative e progetti che siano diffusi appunto su tutto il territorio della Toscana e diano la possibilità di creare e di prevenire qualsiasi forma di violenza ma anche di costruire un mondo in cui le donne possano essere realizzate soprattutto sul lavoro. Credo che sia molto importante che le professioni si siano messe insieme e abbiano compreso questa necessità. È sicuramente un grande passo avanti. Con il protocollo d'intesa la Commissione regionale per le pari opportunità e il Comitato interordinistico insieme per le professioni intendono collaborare per individuare percorsi di diffusione della cultura antidiscriminatoria e di destrutturazione degli stereotipi al fine di prevenire e contrastare ogni tipo di violenza e discriminazione e promuovere le pari opportunità. Sono stati individuati alcuni ambiti di collaborazione, promozione di attività congiunte di sensibilizzazione sui temi oggetti del protocollo rivolte alla cittadinanza e agli ordini professionali, attività volte alla promozione dei principi di parità tra le persone e delle pari opportunità attraverso la lotta agli stereotipi, ad ogni forma di discriminazione, marginazione e violenza anche all'interno degli ordini professionali promozione di attività volte a diffondere una cultura che accoglie e rispetta le unicità. Per attuare le iniziative nascerà un comitato di coordinamento composto da quattro rappresentanti del Comitato insieme per le professioni e da due rappresentanti della Commissione regionale pari opportunità. La convenzione è firmata a durata di due anni e potrà essere rinnovata per un ulteriore biennio. Valdichiana 2026, Mazzeo a Roma È la prima volta che una unione di comuni arriva ad essere tra le dieci finaliste. Siamo qui per sostenere la Valdichiana Senese, capitale italiana della cultura 2026. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, a Roma il 5 marzo, prima di entrare nella sala Spadolin del Ministero della Cultura per l'audizione finale di Valdichiana 2026. Valdichiana Senese, Seme d'Italia, ha infatti il titolo scelto per il progetto che vuole portare l'Unione dei Comuni a diventare capitale della cultura italiana per l'anno 2026. Dopo l'incontro di lunedì scorso, promosso dallo stesso presidente del Consiglio regionale, quale ultimo tassello di un percorso iniziato alcune settimane fa, che ha visto prima un momento di confronto con l'Unione dei Comuni e poi in aula l'approvazione unanime di una mozione a sostegno della candidatura, la presenza di Mazzeo a Roma rappresenta il forte sostegno della Toscana a questo progetto. È la prima volta che un'Unione dei Comuni arriva ad essere tra le dieci finaliste. Un progetto che parte dal territorio, un progetto che tiene conto di questa grande scoperta che è avvenuta a San Casciano dei Bagni, una scoperta unica al mondo, ma è anche un racconto di storie e tradizioni differenti. Un seme, un seme per costruire una proposta culturale differente, in grado di attirare turisti da tutto il mondo. Una proposta innovativa che, sono certo, colpirà la Commissione perché c'è l'idea di una Toscana bella che si sa aprire al mondo partendo dalla sua storia, dai suoi valori e dalle sue radici. Il nostro punto di forza è quello di proporre un modello, quello dell'ecosistema culturale, identificando proprio nella Valdicchiana senese una forma in cui ha preso vita un ecosistema culturale fatto da un lato di elementi materiali, come il suo straordinario patrimonio artistico, architettonico, paesaggistico, ma anche elementi immateriali, che sono l'intelligenza creativa, la competenza artigianale, il sapere scientifico. Questi elementi stanno in un equilibrio dinamico che produce di fatto una condizione di benessere per la comunità che abita la Valdicchiana e noi questo vogliamo proporlo come un modello replicabile in altre aree interne. Chiaramente non ci sfuggono quelli che sono i punti critici invece e uno tra i tanti, anzi forse il più significativo, è quello dello spopolamento, che di fatto sta interessando molte delle aree interne, di quelle che vengono definite aree interne nel nostro paese. Ecco, noi crediamo che attraverso la cultura si possa trovare una via per contrastare lo spopolamento e far tornare questi luoghi ad essere luoghi desiderabili, non soltanto per coloro che lo vogliono visitare come turisti, che naturalmente sono sempre ben accolti, ma quelli che vogliono fare il proprio progetto di vita appunto in Valdicchiana. L'eterogenità del panorama attuale della Valdicchiana riflette una stratificazione storica importantissima. La Valdicchiana è stata una culla, sì dal tempo della preistoria, come ben sappiamo, per moltissime civiltà che hanno poi costituito, in un certo senso, attraverso anche il loro avvicendarsi, l'anima dello spirito italiano. Ed è per questo che noi abbiamo proposto questo simbolo del seme d'Italia, cioè immaginare che proprio in Valdicchiana siano stati seminati molti degli aspetti che poi hanno concorso a formare la nostra civiltà. A partire da un dato su cui nessuno mai ragiona fino in fondo, che è proprio la lingua. Noi oggi parliamo, magari io non con accento pienamente toscano, ma diciamo in Italia la lingua che si parla deriva proprio da quel seme che in Valdicchiana ha fruttificato una lingua così importante anche proprio per lo sviluppo della cultura europea. L'altro elemento che secondo me è importante sottolineare è proprio quello della grandissima vitalità creativa che questo territorio esprime attraverso la ricchezza anche della sua proposta multiforme, i festival che hanno luogo in Valdicchiana e anche il fatto che questi festival hanno creato generazioni di artisti e di persone attive nel mondo delle performing arts, per esempio. Tutto questo sarà valorizzato perché entrerà a far parte del cartellone che noi proponiamo per il 2026 e che ancora una volta diventa, a nostro modo di vedere, una proposta di modello anche per l'Italia per dimostrare come attraverso l'arte e la cultura si può anche produrre e generare benessere e lavoro e occupazione. La presentazione del progetto si è aperta con un'opera di videoarte realizzata da Giuseppe Ragazzini. Sono stati quindi Filippo Del Corno e Agnese Carletti, Presidente dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese nonché Sindaca del Comune di San Casciano dei Bagni a condurre la presentazione. Abbiamo raccontato alla Commissione la nostra visione, il nostro progetto, quello che vogliamo realizzare nel caso in cui dovessimo diventare Capitale Italiana della Cultura 2026. È un progetto ambizioso, è un progetto che supera i confini comunali ma che metta a sistema una realtà che già esiste e siamo certi che lo porteremo avanti a prescindere ma essere Capitale Italiana della Cultura 2026 significherebbe accelerare questo processo che per i nostri territori è fondamentale. Siamo l'unica unione dei comuni arrivata tra le dieci finaliste per la prima volta e credo che questa sia la nostra unicità il non avere un'immagine unica per rappresentarci, l'abbiamo raccontato bene oggi, ma una molteplicità di immagini che insieme però fanno una grande forza. Videoarte non è un termine che amo moltissimo ma in realtà si tratta di una metamorfosi pittorica, è una tecnica che io in qualità di illustratore, pittore, poi prestato anche all'arte digitale, utilizzo spesso per spettacoli teatrali, performance e spettacoli anche musicali. Si tratta di un flusso di immagini in costante divenire che si trasformano e la nostra delegazione mi ha incaricato di elaborare un video che raccontasse un'impresa molto complessa ma entusiasmante la complessità e la bellezza del nostro territorio, della Val di Chiana Senese, attraverso appunto una metamorfosi pittorica. Urgente la riforma della par condicio A pochi mesi dalla prossima tornata elettorale il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha invocato una riforma urgente della legge sulla par condicio ritenuta ormai anacronistica. Il messaggio è stato lanciato in occasione del corso Par condicio e comunicazione istituzionale indicazioni professionali e buone pratiche promosso da ordine dei giornalisti Toscana, Fondazione Odigi Toscana e Coricom Toscana che si è svolta all'auditorium di Palazzo del Pegaso. Il presidente Mazzeo, dopo aver ringraziato gli organizzatori e puntualizzato come la legge abbia la necessità di essere riformata non solo perché la norma ha superato i 20 anni ma anche alla luce dei nuovi scenari tecnologici e comunicativi stravolta da web e social ha proposto di iniziare un lavoro per cambiare la disciplina. Una norma che è quella sulla par condicio che ormai è una norma molto vecchia in cui non si tiene conto dell'utilizzo dei social media cioè la comunicazione classica, quella che voi fate ogni giorno si ferma nel momento in cui inizia la fase di par condicio lo stesso non avviene per l'utilizzo dei mezzi moderni di comunicazione ecco io credo che il Parlamento su questo debba agire vada modificata la norma vada modificata in funzione del tempo che viviamo c'è un'informazione che è importante quella che fa il mondo giornalistico che serve anche a superare a lavorare contro le fake news se noi lasciamo che sia soltanto la rete si rischia che in quel tempo sia un tempo in cui le fake news spopolano e si cambia anche l'orientamento elettorale di tante cittadine e ce ne sono tanti che decidono negli ultimi giorni di campagna elettorale. Al centro del momento di approfondimento del corso è stata soprattutto la legge 28 del 2000 alla cosiddetta legge sulla par condicio superato ormai dalla tecnologia e dal modo di comunicare che ci accompagna quotidianamente basti pensare che Facebook è nato nel 2004 e da lì sono stati fondati social network e nuovi media che hanno rivoluzionato il mondo dell'informazione. Avevamo avuto varie sollecitazioni dagli operatori ma anche dai soggetti istituzionali a organizzare incontri formativi e informativi su un tema così importante che quando si avvicinano le scadenze elettorali diciamo sale la temperatura e l'attenzione su questo tema per cui ci è sembrato utile fare questa iniziativa insieme all'ordine dei giornalisti della Toscana che ringraziamo e Agecom che è qui presente con noi questa mattina con la dottoressa Polcaro proprio per dare informazioni strumenti e linee guida per affrontare in modo sereno come storicamente è avvenuto in Toscana e credo anche in gran parte delle regioni bisogna affrontarle in modo sereno ma per affrontarle in modo sereno bisogna essere consapevoli fino in fondo delle regole, delle normative e in questo modo affrontare la campagna elettorale che è il massimo momento di espressione della democrazia in modo consapevole e appropriato. I prossimi corsi si terranno a Siena e Grosseto l'11 marzo e a Livorno il 20 marzo tutti validi anche per la formazione professionale dei giornalisti Credo che sia arrivato il momento visto che ci avviciniamo a una tornata elettorale particolarmente delicata come del resto lo sono sempre state tutte però diciamo che questa particolarmente abbiamo sentito la necessità di venire incontro ai colleghi organizzando insieme al Corecom ma che ringrazio gli incontri per fare chiarezza sulle regole perché sentiamo parlare di parcondicio o altri termini o almeno che dovrebbero essere familiari ma io dico sempre c'è la necessità comunque di rinfrescare un po' le nozioni di base anche se poi dopo ci addentriamo in norme e regole che magari nel corso del tempo dovrebbero essere rinfrescate loro stesse considerato che dobbiamo fare conti anche con l'avvento dei social che sono qualche cosa di deflagrante per la nostra vita privata e la vita pubblica Cercheremo appunto in questi tre giorni di illustrare un percorso che possa farci arrivare insieme a sostenere il peso di queste campagne elettorali fermo restando che in questo momento noi abbiamo anche un quadro europeo molto significativo in movimento con anche una consultazione della Commissione europea che inciderà anche il nostro regolamento per le europee e oggi lo stesso Consiglio dell'autorità approverà anche delle facche sulla comunicazione istituzionale anche qui per fornire un servizio molto efficace e puntuale soprattutto per gli enti locali e pubblica amministrazione in modo tale da orientare in maniera molto positiva le attività che si faranno in questo periodo cosiddetto protetto questo significa che è una legge che ormai è datata e che molti avevano quasi il desiderio di mettere da parte di accantonare o comunque ridimensionare invece in questa prospettiva più generale del mondo adiovesivo non dimentichiamo che il nostro Presidente La Sorella è il coordinatore dei servizi digitali nonché Presidente appunto di tutti i regolatori europei per quanto riguarda appunto questi contenuti noi abbiamo da offrire insieme al Corecom tantissimo alle istituzioni e per essere intendo non solo quelle pubbliche ma per me istituzione cioè ciò che governa poi i territori sono anche i giornalisti e l'ordine che so in cui essi appunto sono rappresentati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti